buongiorno a tutti intanto un grazie per avermi invitato a questa vostra conferenza stampa per la presentazione di questa ventinovesima edizione del vostro festival internazionale musica sacra appunto di pordenone il mio è un affettuoso e sincero saluto agli amici del festival che da poco sono entrati a far parte della nostra famiglia italia festival come penso saparete è un'associazione che al suo interno tantissimi festival multidisciplinari e la presenza del vostro festival aggiunge certamente un ulteriore carattere di qualità inoltre uno dei vostri direttori artistici appunto franco calabretto oltre a essere un amico è stato confermato da pochi giorni all'interno della nostra assemblea come componente dell'organo di controllo della nostra associazione quindi diciamo un elemento in più e un saluto in più e un motivo in più di orgoglio per il vostro festival per quanto riguarda il programma non posso che augurarmi una bellissima e felice ripartenza sperando di poterci vedere al più presto nel vostro territorio e rispettare l'impegno che ho assunto con la presidente e con l'amico calabretto nell'organizzare un'iniziativa congiunta tra italia festival e festival internazionale musica sacra che possa dare ulteriore elemento di novità e di sviluppo all'interno di un dibattito sulle ripartenze dei festival italiani non mi resta altro che ora vi in bocca al lupo e speriamo di rivederci presto ciao